Fronteggiare la prossima emergenza rifiuti attraverso la realizzazione di nuovi impianti. Parola di Vincenzo De Luca, che questa mattina si è recato a Salerno per visitare l'impianto di compostaggio situato nella zona industriale del capoluogo e lo stadio Arechi. Il governatore si è soffermato sulle questioni di rimenti legate al ciclo rifiuti, delineando un possibile scenario emergenziale di qui al prossimo settembre. L'impianto ha avuto le traversie dei problemi, ha subito anche un incendio, ha avuto una gestione nella parte finale non corretta da parte del privato che lo ha realizzato in progetto di finanza. Adesso la gestione passa alla società del comune Salerno Pulita e credo che avremo maggiore efficienza nella gestione dell'impianto. L'impianto è assolutamente sostenibile dal punto di vista ambientale. Voi state nel cortile, stiamo nel cortile, non c'è nessuna emissione di odori in atmosfera, siamo nel pieno della città. L'altro vantaggio che abbiamo è che risparmiamo 70 euro a tonnellata nella lavorazione dell'umido. Oggi in Campania, nel resto della regione, l'umido che risulta dalla raccolta differenzata viene portato fuori regione a 175 euro a tonnellata. Con questo impianto si pagano 105-107 euro a tonnellata. Il risparmio può tradursi in un risparmio sulle bollette delle famiglie. Avremo da CER a settembre un momento delicato in relazione al termonizzatore di Acer. Rimarrà chiuso l'impianto per un mese e mezzo. Per la manutenzione generale dell'impianto, cioè la manutenzione sulle tre linee. E quindi dobbiamo prepararci da adesso a trovare aree di stoccaggio provvisorio dei rifiuti per poi, dopo questo mese e mezzo, ripartire e smaltire i rifiuti accumulati nell'arco di 2-3-4 mesi. Io non credo che possiamo avere questa emergenza continua, quindi dobbiamo progettare da subito una quarta linea di riserva da tenere nell'impianto di Acer. Una quarta linea da utilizzare facendo la manutenzione programmata delle altre linee. Si chiude una linea per la manutenzione e parte la linea di riserva. Così stiamo tranquilli, ma in queste condizioni abbiamo sempre l'acqua alla gola e siamo sempre lì per avere un'emergenza di rifiuti. Non è tollerabile, dobbiamo darci una soluzione definitiva per la gestione dei rifiuti in Campania. Noi ce ne siamo dimenticati per strada, ma continuiamo a pagare 130.000 euro al giorno di multa dell'Europa per infrazione europea. Con l'Europa abbiamo già concordato che quando avremo i primi contratti firmati per realizzare gli impianti di compostaggio cominceremo a ridurre questa multa per infrazione europea. Ma l'Europa vuole vedere i fatti concreti. Siccome per vent'anni abbiamo raccontato palle all'Europa, adesso vogliono cominciare a vedere gli impianti che vengono perlomeno appaltati. Siamo molto fiduciosi. Cominceremo credo nel 2019 ad aprire i primi due cantieri per realizzare impianti di compostaggio.